Se sei innamorato lo capisci. O forse sono io che non sono capace d'amare. A te mi è successo? Sono innamorato di uno come me. Sì. Ci abbiamo tutti bisogno di qualcuno. Però prof... Non è vero? Tu no, per esempio. Lì che devo tornare. Te ne vieni a frega, scusa. Io più di tutti. Mi manca. Divertiti anche per me stasera buona. Ma che c'hai? Pari in anima in pena! Perché invece te fai offesa e non vieni pure dalla festa? Che te manca? Qualcuno o qualcuna? Chi è, ma? Mica non ti piace mica, ragazzi. Ma come c'è? Sì. Non avevamo detto che non lo dicevamo a nessuno, insomma. Infatti, mamma è come non dire a nessuno. Con te è diverso, dai, hai capito, no? Devi lasciar perdere Simone. Ho fatto quello che avremmo fatto tutti. Avrei fatto pure io, Simone. Però l'ha fatto lui. Sei geloso? Fatti i cazzi di voi. Io mi sto a fare i cazzi miei. Non è giusto che lui paga per te. Ma a te sei partita la brocca. Simone si sta mettendo nei guai. Non è col cazzo che tiri di quei costi dove mi mettevo. Ma io non gli ho chiesto niente, Simone. Per tirare fuori te dal giro deve entrare nel giro lui. Ma che cazzata hai? Mi scastro io che non cazzare di te. È la stessa cosa che gli ho detto io. Però te ne sei qua dentro chiuso come un sol. Ci sei invigliacco. Ma non è così che funziona! Sta a fare una cazzata! Sto colpare quel tessere cazzone. Basta? Ti ci mostri a fare il coglione. Vattela a farlo. Ho cazzato quel coglione di Simone che mi sta a far diventare matto. Mi sta a far diventare... E indovina di chi mi sono innamorato? Di chi? Non mi piacciono i maschi. Più bello, del più strozzo e del più vetro di tutta la scuola. Non è il mio. Ma? Ma non è difetti, capisci bene che io... Diciamo che non era la persona giusta. Non so che fa, non so che pensare. Manuel... Mi vuole una pena. Hai capito di cosa sto parlando, no? Ma... Di che? Sembra. Già, però se ci vediamo in separato sede te lo dico. In separato sede? Ancora sotto per lei? Anora che ne pensi? Dai che? Non mi dico. E poi comunque per te non va bene. Perché? Perché... Perché però... L'abisso della passione. Ecco il ragazzo. L'incidente è chiuso... E la barca dell'amore... Si è spezzata. Ma che mi frega a me del mio, scusa, non ho capito. Comunque tu devi stare attento, eh. Perché attento? Perché mi pare che ti stai a fiarare la volta per uno che manco ne pensa. Mi piace pensare. Inferno! Inferno! No, lascia! Non ti lascio, va bene! Non sono cazzicolo. Ma invece sì, perché poi chi è che ti deve recuperare col cucchiaino? Non ti lascio perché ti voglio più! Se l'amore ti ha fatto soffrire, perché riprovarci? Non ha senso, signore. Un prover amore? Non mica sono innamorato di te io. Perché innamorarsi non è quella cosa che vale per me. Sei sicura, sì? Adesso puoi essere sicura. Simone non mi hai perso. Hai visto come è Simone quella dell'avanzo di Galena? Invece sì. Ciao, sono Simone. Simone. Simone chi? Avevo Simone. Lo vedi? Vuoi finire dentro per uno che manco conosce? Vengo con te. Vengo con te. Tu ci fai e vengo con te. Io? È troppo... È troppo rischioso. Io con te. Ti vedo. Non vieni perché non c'è Sammimo e questo è il motivo. Sì, perché non c'è Sammimo? Che te ruote. Io al posto loro mi sa così. Lo sai che penso quando dici queste stronzate? Devo raccontare. Non mi sono comportato bene quello. È successo tutto troppo in fretta, Mario. E mi riaccompagna Simone? Chi è Simone? Chi è Simone. I miei politici. ceğizale di tutte le suoi seghi. AMP роз Alliance